Il giorno, analisi dell'opera. Analizzeremo adesso l'opera che è considerata il capolavoro di Parini partendo dal vostro libro di testo. Allora, in che cosa consiste? Innanzitutto abbiamo il mattino e il mezzogiorno perché inizialmente l'opera doveva essere costituita da tre parti, mattina, mezzogiorno e sera, poi quest'ultima verrà divisa in vespro e notte e sarà comunque una parte incompleta. Di che cosa si parla? Intanto, come avete già avuto modo di capire dal video che vi ho inviato, il giorno è un'opera, un poemetto di da scarico, di natura satirica, che analizza una giornata tipo del giovin signore, un nobile cicisbeo. Chi è il cicisbeo? Lo vedremo poi bene nell'analisi del testo, ma il cicisbeo essenzialmente è colui che accompagna la dama. Tant'è vero che anche se non era una legge scritta, anche se non era sempre una constitutile, molto spesso il cicisbeo era l'amante ed è per questo che Parini critica questa figura, perché per lui fondamentale la figura è la famiglia e questa figura metteva a rischio uno dei valori più importanti della società. Si consideri che Parini sì è un illuminista, ma il suo illuminismo non condanna né mette da parte la religione, anzi la religione è considerata uno strumento fondamentale per creare una società che funzioni. Per questo motivo deve essere costituita da valori fondanti e uno di questi valori è rappresentato appunto dalla famiglia. I caratteri del poemetto, il mattino e il mezzogiorno. Ora, negli stessi anni dice in cui componeva le odi illuministiche, dice sì le odi illuministiche, le odi come l'innesto del vaiolo, in cui si analizza quello che è l'immunizzazione al vaiolo attraverso l'iniezione del virus oppure la vita rustica che analizza il vero tipo di vita contadina o l'educazione in cui si analizza l'importanza dell'educazione e l'importanza che si ha dell'educazione non solo della mente ma anche del corpo, Parini lavora ad un poema in nende casilla bisciolti, che rappresenta satiricamente l'aristocrazia del tempo. L'opera si collega quindi all'impegno civile e l'uministico delle prime odi, perché? Perché fondamentalmente l'intento è didascalico, rispecchiando lo stesso atteggiamento battagliero e polemico, anche e soprattutto perché attraverso l'ironia che è uno strumento, intanto è una figura retorica che serve per mettere il risalto che ciò che si dice in realtà non è quello che si pensa, ma poi perché fondamentalmente non è soltanto una critica alla classe aristocratica ma un intento didascalico perché vuole insegnare alla classe aristocratica il corretto modo di vivere, il non essere più una classe parassita ma produttiva, come lo era stato e l'ironia consiste in che cosa? Nel momento in cui descrive il giovin signore che si trova di fronte alla toiletta, che si sta imbellettando e si sta incipiando, il poeta paragona questa persona che si sta incipiando ad un guerriero avvolto nella polvere, letteralmente dice di provare disgusto nei confronti della polvere prodotta dalla guerra e dal combattimento, in realtà mette a confronto due immagini e dall'incontro delle due immagini si rivele ed emerge quanto sia ridicola la figura del cicisbeo e del giovin signore che non fa altro che imbellettarsi utilizzando la cipria. Quindi il poema aveva per argomento la descrizione della giornata appunto del giovin signore e della nobiltà milanese e nel progetto originario doveva appunto come ho detto prima articolarsi in tre parti, poi le prime parti furono pubblicate nel 63 e nel 65 mentre la sera non venne terminata e poi si sdoppiò nel vespro e nella notte. Il giorno appunto come anche detto poco fa fa parte della cosiddetta poesia di da scarica che dice vantava illustri modelli nella letteratura classica ed era particolarmente diffusa nell'ambito della cultura illuministica. Che cosa vuol dire nella letteratura classica? Che se noi per esempio prendiamo il Dererum Natura di Lucrezio che è un'opera che poi verrà stata scoperta durante l'umanesimo, ci rendiamo conto che l'intento è quello di istruire le persone ad una nuova filosofia che è quella che si basa sul concetto della mortalità dell'anima, del non avere paura per esempio degli dei, del non avere paura della morte. Ecco sono tutti intenti che mirano a diffondere, divulgare una dottrina che era quella di Epicuro. In cultura illuministica perché basti ricordare le semplici, l'enciclopedia di Viderot e d'Alembert per esempio, che aveva fatto dell'insegnamento e della divulgazione un vero e proprio abito mentale. Il poeta presentandosi come pregettore d'amabile rito e qui sta l'ironia perché la pregettore d'amabile rito letteralmente significa insegnante di un rito degno di essere amato, degno di essere apprezzato e fondamentalmente ciò che ci presenta non è nulla che si possa apprezzare o stimare. Perché? Perché proprio non è nulla, cioè si basa sulla vacuità, sul vuoto, sulla apparenza. Quindi un rituale privo di un significato concreto che non poteva essere veramente apprezzato. Afferma di voler insegnare al gioven Signore come riempire piacevolmente i vari momenti della sua giornata vincendo la noia che lo affligge. Ecco appunto tutto ciò che caratterizza la vita del gioven Signore è la noia e questo ci dimostra quanto sia una vita vuota e quanto il rito amabile in realtà sia un rito privo di alcun significato. E lo vedremo bene poi nella struttura dell'opera perché è una struttura chiusa. Si passa dalla casa alla carrozza, la passeggiata avviene in carrozza proprio per sottolineare la limitatezza di un mondo che ha perso ormai il suo antico splendore. Parini non vuole eliminare, come avete ben capito dal video, dai video che vi ho mandato, la nobiltà, ma vuole che si abitui, si educhi, si apra, sia utile all'interno del mondo sociale. L'impianto del poema quindi più che narrativo è descrittivo, non viene individuata una particolare vicenda perché non c'è niente da narrare, cioè non c'è un'azione particolare pregio. Il giovin Signore non fa altro che tornare quando gli altri si svegliano, poi svegliarsi, fare colazione, quindi la sua scelta difficile consiste nello scegliere tra un caffè e una cioccolata calda, poi imbellettarsi, uscire, andare dalla dama, la dama a cui lui fa compagnia, pranzare, discutere su argomenti che seguano le leggi e le regole del Galateo, per cui non argomenti impegnati, ma argomenti che siano il più frivoli possibili. In questo ambito che noi ascolteremo la storia della Vergine Cuccia, è una storia che ci fa capire quanto terribile fosse realmente la concezione che Parini aveva, ma attraverso l'ironia. Parini sembra quasi difendere la donna nobile che ha causato la sfortuna, la rovina del suo servitore, della vita del suo servitore e di tutta la sua famiglia, perché quest'ultimo ha dato un calcio a un cane dopo essere stato morso. Ecco, questo racconto, il fatto che si chiami Vergine Cuccia, come se il cane fosse un po' divinizzato, fa capire in realtà quanto terribile fosse la condizione in cui si trovava la nobiltà, la perdita di qualunque valore. Infatti si ha la descrizione appunto di una società che non è più punto di riferimento per nessuno. Nel mattino il nobile viene colto nel momento in cui si corica, all'alba dopo una notte trascorsa a teatro o al tavolo da gioco, poi nella sera e nella sera, ovvero nel vespre e nella notte, noi abbiamo essenzialmente la presentazione di personaggi che sono al di fuori dalla normalità, per esempio il nobile che si diverte a sfilare i fili degli arassi, cioè che hobby è? Ecco, mette alla luce appunto questi personaggi per far capire come ormai non c'è più speranza, ma come avete ben capito nella fase finale della sua vita il poeta non nutre più una speranza. Perché? Perché gli ideali dell'illuminismo sono ormai finiti, tant'è vero che le ultime opere si avvicinano a quella che è la corrente neoclassica, la corrente neoclassica è proprio un ritorno netto ad un passato in cui l'armonia era dominante e l'armonia è data però da una visione stilistica, cioè non è rapportata all'argomento, non è un'armonia interiore, perché ormai lui non crede neanche più fondamentalmente nella possibilità di un miglioramento sociale, ma è data da una forma che sia perfetta. Qui dice il giovine dopo una notte trascorse attratto al tavolo da gioco viene, si risveglia, quindi viene descritto il risveglio, a mattina è inoltrata e a un certo punto Parini fa una differenza tra due personaggi che lavorano, il contadino e l'operaio, e il giovine signore che ritorna a casa. Ora non è per far risaltare il giovine signore, ma per dimostrare in realtà quanto sia inutile la sua vita. Dice, alla fine il giovine signore è pronto per uscire e recarsi a trovare la sua dama dopo una lunga e laboriosa toletta. Uno dei motivi principali centrali della rappresentazione pariniana è il fenomeno del cicisbeismo, come ho detto, per cui ogni donna sposata aveva diritto ad un cavalier servente, si chiama, cioè colui che l'accompagna e le sta accanto in qualunque momento al posto del marito. Il rapporto doveva consistere in un puro servizio della donna, secondo una concezione che si risaliva all'amore cortese, ma di fatto si risolveva in una forma di adulterio che veniva legittimato socialmente. Vedete questo legittimato socialmente? Quando io faccio riferimento per esempio ad Anna Karenina e al fatto che lei ha una relazione extraconiugale e che questa relazione sarebbe stata accettata dal marito se non fosse stata resa pubblica, significa essenzialmente questo, che ancora nel 1800 presso la nobiltà c'era l'usanza di accettare, anche se non a livello plateale, l'adulterio. L'adulterio veniva messo in pratica, ma veniva nascosto. Quindi il cicisbeo è l'amante, ma per evitare che il nome del marito venisse infangato non si mostra, non si dice palesemente che l'amante, semplicemente un cavalier servente che accompagna la donna e che fa sì che lei non rimanga mai sola. Nel mezzogiorno il giovine signore viene seguito in visita alla dama con tutte le schermaglie amorose che ne derivano, poi durante il pranzo in cui si intrecciano conversazioni sugli argomenti più vari, tra cui anche temi filosofici alla moda, quali il pensiero dei nuovi filosofi. Cioè alla moda, perché fondamentalmente la cultura è superficiale, tant'è vero che i nobili non si dedicano neanche più allo studio, cosa che erano soliti fare prima, ma si dedicano a discutere di temi che vanno in tendenza. Gli strumenti della satira. L'impianto di dascalico, derivante degli insegnamenti che il progettore dà, si occupano e sono incentrati sul modo che lui può utilizzare per occupare il tempo. Dice, quindi l'impianto di dascalico impartisce al suo pupillo sul modo di occupare il tempo, è più sensibile nella prima parte, mentre suma nella seconda, dove alla tavola della dama compaiono varie altre figure e l'andamento si fa più descrittivo. Ma perché Farini insiste sulla descrizione? Perché attraverso la descrizione dei minuziosi particolari, noi vediamo veramente chi e che cosa consiste la nobiltà oggi. L'ironia nasce dai dettagli, come il dettaglio della cipria. Cioè perché descrivere l'uomo che si incipria? Perché insistere su un elemento che potrebbe sembrare privo di significato, perché è privo di significato, ma la vita dei nobili è proprio priva di significato. Quindi la struttura di dascalica descrittiva non è che un pretesto che serve a veicolare la satira nei confronti del mondo aristocratico. Quindi fondamentalmente per concludere questa prima parte, possiamo dire che il discorso appunto che viene più importante da analizzare è questa critica ironica della nobiltà.